Giovedì 28 luglio 2022, puntuali come sempre, ci ritroviamo in diretta alle 7 del mattino per sfogliare i giornali, il Carlino e il Corriere Adriatico per dare uno sguardo al tempo e subito invece uno sguardo anche al calendario, l'almanacco del giorno, i Santi di oggi sono Nazario e Celso siamo a Milano, i corpi furono trovati da Sant'Ambrogio, il sole è sorto alle 5, 52 tramonterà alle 20 e 37 adesso andiamo a vedere il tempo, partiamo da questa webcam che ci mostra Senigallia la spiaggia di Velluto che si è già animata questa mattina sia sulla Battigia vedete c'è tanta gente che passeggia e insomma anche sulla strada in questo momento a dire il vero pochissima ma fino a 30 secondi fa era pieno di gente anche sulla strada comunque questo per dire che già molta gente si sta preparando per andare al mare un saluto quindi anche ai telespettatori, ospiti, soprattutto turisti che magari ci stanno seguendo in questo momento un buon soggiorno nella nostra regione, nella splendida regione Marche allora vediamo il tempo con l'aiuto della protezione civile delle Marche anche per oggi cielo sereno poco nuvoloso, qualche pioggia ancora nel pomeriggio nel settore montano sui Sibillini, domani il tempo ancora un po' perturbato soprattutto nell'entroterra ma il cambiamento arriverà sabato, fine mese, sabato 30 con rovescio temporali sparsi che saranno possibili in mattinate nelle ore pomeridiane prima nel settore settentrionale della regione poi in successiva estensione sul resto del territorio vedete anche i temporali in particolare sul pesarese, pesarese che è stato risparmiato nella giornata di ieri nel corso della giornata di ieri come vedremo i temporali hanno colpito in particolare hanno colpito in particolare il centro-sud della regione, ancora ha piovuto tanto mentre grandinate importanti anche per esempio nella Scolano ma lo vedremo tra un istante dunque cominciamo a leggere le prime pagine intanto in apertura il Corriere pubblica la dichiarazione, l'annuncio di Matteo Ricci sindaco di Pesaro che ha detto in un messaggio guiderò Pesaro fino all'ultimo Ricci rinuncia dunque alla candidatura in Parlamento non lascio la città in mano ad un commissario e la sua attività nazionale prosegue porteremo a letta i cinque punti programmatici dei sindaci centropagini invece la cronaca a fuoco in farmacia, colpa del frigo, incendio alla Peroni in via del Novecento a Pesaro ancora dal quotidiano delle marche la droga in camera da letto a Fossombrone, giovane arrestato per spaccio poi a Pesaro, cavalca ferrovia, si sblocca l'iter per il restyling fanno museo marineria all'ex asilo Manfrini la giunta ci crede Rocca Costanza invece di nuovo a Pesaro è il ROF il sogno da realizzare archivio di stato e museo tributo a Dario Fola Cordo rafforzerà il protocollo già siglato lo sport, WL in salita start a Trieste quindi la prima partita è a Trieste torna Moretti, faremo dice bene mentre di spalla la novità la mobilità è più green, ora sui treni c'è anche l'area bike l'aerea dedicata alle biciclette a Pesaro invece il Carlino titolo Riccino a Roma caccia ai candidati l'annuncio ufficiale del sindaco per le prossime politiche e il PD adesso deve cercare i nomi dei papabili fiamme alla farmacia Peroni paura per il materiale chimico ma i pompieri bloccano l'incendio la causa forse un cortocircuito da un congelatore ma centro pagina la fotonotizia questa mattina è dedicata ai lavoratori che nonostante il caldo sono costretti a lavorare quindi i dannati dell'AFA così il titolo duro a lavorare con 35 gradi ma nessuno chiede la cassa integrazione poi le altre notizie in breve al parco Miralfiore sempre di Pesaro fanno jogging quindi corrono, fanno allenamento intanto comprano droga dalla pusher, dallo spacciatore io traduco perché qui tutti questi termini poi gli anziani che ci seguono la mattina devo tradurre quello che per qualcuno sembra scontato e banale ma bisogna anche pensare che ci sono le persone anziane tante che ci seguono e quindi hanno bisogno di un traduttore io sto facendo il traduttore perché sempre di più tutti questi termini inglesi e quindi insomma vabbè, doppio lavoro visita in ritardo l'assessore si è scusato si parla di mani alla sanità poi la protesta guardia medica il PD lancia raccolte di firme per riattivarla e sempre dalla prima del Carlino di Pesaro il servizio dedicato a Daphne la bagnina bella e brava che commenta anche insomma tutto ciò che le viene detto magari passando scherzando più o meno ma lei dice sui commenti volgari ho le spalle larghe poi a Fano il Comune spinge sulle ciclabili ma aumentano i furti di biciclette di taglio basso VL subito a Trieste poi la Reier in casa questo è il calendario intanto Moretti ha firmato per la Visi invece il calcio sfuma lense ora si punta su Jelenic questo per quanto riguarda la Serie C del campionato di calcio ma andiamo a vedere subito le fotografie che ci portano ad Ascoli nel Corriere Adriatico di Ascoli per farvi vedere un attimo che cosa è successo da quelle parti ieri in una manciata di possiamo dire ore chicchi di grandite e vento forte cede l'impalcatura di un palazzo questo è il titolo sottopasso allagato e auto intrappolata vetri rotti anche in piena coteca e carrozzerie dei veicoli ammaccati queste sono le fotografie qui vedete l'auto è rimasta bloccata sotto un sottopasso insomma dall'acqua alta il motore si è fermato poi tutti i vetri rotti dai chicchi di grandine grandi come Limoni e sotto poi la recinzione di un cantiere chiuso insomma ha fatto un po' di danni sicuramente soprattutto nell'Ascolano qui invece sempre dalla provincia di Ascoli il resto del Carlino chicchi di grandi come Pesche si sono abbattuti sulla città e sulla vallata facendo molti danni Folignano valuta lo stato di calamità questo è uno dei chicchi caduti ieri pomeriggio su Ascoli e vallata distrutti lunotti di molte automobili sono state ovviamente ammaccate anche le carrozzerie danni nei giardini alberi caduti lungo le strade a Monticelli il distacco di parte di un cantiere del super bonus questo è il cantiere vedete tutto per terra certamente insomma meno male che poi nessuno comunque è rimasto ferito nessuno si è fatto male questo per quanto riguarda il maltempo e adesso invece in primo piano soprattutto sulle pagine di Pesaro dei due quotidiani l'annuncio del sindaco Matteo Ricci che ha detto in un videomessaggio ha annunciato in un videomessaggio che non si candiderà alle prossime politiche e quindi del 25 di settembre e quindi rimarrà sindaco fino alla fine fino all'ultimo giorno eccolo qua il titolo del giornale nessuna sorpresa dunque Matteo Ricci resta la guida di Pesaro e non si candida cari cittadini dovrete sopportarmi per altri due anni ho deciso di rimanere sindaco della città pur sapendo che da Roma dal Parlamento avrei potuto dare un grande contributo alla nostra terra altro che occhi di tigri i primi cittadini DEM sono a Rocchi quattro conti spiezzo in due la mia attività nazionale non si ferma porteremo a letta i nostri cinque punti programmatici e il resto del calino invece titola l'annuncio ufficiale di Ricci ai pesaresi non mi candido abbiamo tanto da fare qui il sindaco scioglie i dubbi impensabile lasciare la città ad un commissario noi come Rocchi il centrodestra lo spezziamo in due ecco questo già si capisce meglio e ora il PD a caccia dei papabili tra i nomi spunta anche Andrea Biancani la pagina di Fano invece del resto del calino è sulla strategia che il comune ha intenzione di adottare sulla mobilità città sui pedali l'idea piace a tutti e piace anche ai ladri perché aumentano i furti di biciclette non bastano solo le piste ciclabili per promuovere una mobilità sostenibile su due ruote ma anche strutture pensate ad hoc per lasciare le biciclette in sicurezza e poi si parla di alimentazione al suffragio si parla di orto orto ma da spiaggia appunto a vento alle ore ventuno questa sera poi la scultura di bronzo del maestro Orofo Badei per la cantante Noa l'artista israeliano festeggiato i suoi trent'anni poi invece la prima pagina di Fano del Corriere Museo della Marineria all'ex asilo la giunta scommette sul Manfrini fondi e cronoprogramma il grande edificio tornerà fruibile nel 2024 e questa è l'idea che appunto hanno avuto dal Comune di Fano per poter riutilizzare questa struttura che appunto è lì fatiscente pericolosa adesso le hanno ridato una messa a posto ma insomma non è certo non è certo un gran bel vedere diventerà il museo della marineria una marineria che purtroppo è inutile dirlo sottolinearlo sta scomparendo è quasi scomparsa però ecco questo è l'intenzione del Comune Gimarra speriamo in soprintendenze Corte dei Conti i residenti di questo quartiere di Fano sono arrabbiati dopo la presentazione dell'interquartieri e continuano dunque la loro battaglia mentre sulla strategia antirumore Terna non convince altri residenti arrabbiati non quelli di Carrara ovviamente non quelli di Gimarra ma questa volta di Carrara che si sono ritrovati in assemblea insieme ai tecnici di Terna a casa Bethlehem tensione l'incontro che c'è stato appunto Carrara di Fano alcuni residenti contestano questo piano i tecnici della società minacciano di andarsene poi torna la calma insomma un po' di tensione momenti di tensione ieri all'incontro che è stato organizzato dove c'era anche il sindaco Massimo Seri con il vice Cristian Fanesi il piano presentato dalla società per risolvere il problema del rumore che da mesi lamentano i cittadini è stato contestato da alcuni presenti mentre i tecnici di Terna hanno minacciato di andarsene poi tornata la calma il piano è stato presentato ai residenti e l'intervento più immediato riguarda lo spegnimento di alcune macchine soprattutto nelle ore notturne e in alcune ore del giorno questo perché i macchinari saranno spenti tutte le notti fino alla fine dell'anno spegnimento che peraltro è già stato avviato in via sperimentale nei giorni scorsi perché hanno appunto il problema di questo di questo rumore poi 2000 cani invece con 240 razze al Codma si scodinsola c'è questa iniziativa un evento cinofilo che si svolgerà da oggi fino a domenica e saranno selezionati i migliori esemplari di ogni categoria dunque Fano che diventa patria dei cani di razza grazie appunto a questa iniziativa che si chiama Marche Winner Show l'evento cinofilo in programma da oggi fino a domenica che mette in mostra circa 2000 cani provenienti da tutto il mondo ed appartenenti a ben 240 razze canine diverse quindi insomma per gli amanti dei cani sicuramente è un po' come il festival di Seremo per chi ama la musica insomma un evento nazionale e internazionale da non perdere la Fano dei Cesari trova spazio insieme ad altre manifestazioni sulla pagina 5 del Corriere Adriatico perché si parla di soldi soldi che la regione Marche chiede al Ministero per finanziare appunto questi eventi che sono che vanno dalla Fano dei Cesari alla corsa del drappo il turismo batte cassa per gli eventi servono soldi appunto da finanziare con il Fondo Unico e spiccano anche altre manifestazioni come la festa del giorno del patrono di Macerate e il grappolo d'oro di Potenza Picene insomma qui c'è nel grafico come sempre del Corriere Adriatico una sintesi di quelli che sono i soldi che servirebbero per esempio per la Fano dei Cesari parliamo di 50.000 euro 50.000 euro questo è l'importo mentre per esempio 70.000 invece per la semifinale di Miss Italia e poi 34.500 per esempio per la festa patronale di Macerata andiamo a vedere le altre pagine invece a proposito di manifestazioni la festa inizia a Pesero per il Palio dei Braceri e per il festival della Pizza Rossini da oggi fino al 31 le due manifestazioni che si terranno in piazzale Matteotti e alla Rocca sicuramente faranno da catalizzatore per tanti turisti e non solo anche residenti che parteciperanno come sempre numerosi le cucine serviranno piatti pesaresi ecco il programma che troverete sul resto del Carlino a firma di Luigi Diotallevi confermato anche il concorso delle Miss che sfileranno il pomeriggio del 31 poi da Tavuglia Padiglione una scuola più ricca avrà anche la mensa Tavuglia il sindaco Paolucci annuncia di aver ottenuto i 500 mila euro dal bando e aumenta anche l'offerta formativa eccola qua la notizia la fotonotizia che pubblica il resto del Carlino sui tetti infuocati o vicini ai forni a 400 gradi ecco i dannati che lavorano nella canicola cioè con il caldo parlano un muratore un giardiniere un cameriere le pause per riposarsi e quel litro di acqua bevuto ogni ora praticamente per idratarsi e tra l'altro il giornale ricorda che oltre i 35 gradi si può chiedere la cassa integrazione la richiesta ovviamente spetta all'azienda la lista delle attività che sono maggiormente a rischio insomma però ancora in questo caso nessuno l'ha mai chiesto credo che riguardi anche i percepiti i gradi percepiti non solo quelli effettivi anche perché effettivi i 35 gradi si raggiungono una volta o due forse qualcosa di più quest'anno ma insomma non tanto però credo che sia anche i percepiti se non ricordo male droga nella camera da letto invece giovane è arrestato per spaccio perquisita l'abitazione di un trentenne nascondeva Ascish e Marijuana a Fossombrone è stato arrestato per spaccio non per sbaglio per spaccio un trentenne residente a Fossombrone durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno scoperto secondo il giornale 30 grammi di Marijuana e altri 10 di Ascish che erano suddivisi in piccole dosi all'interno di barattoli occultati nascosti mentre sempre da Fossombrone commissione speciale sulle sorti dell'ospedale il consiglio comunale di Fossombrone alle 18.30 è chiamato ad approvare la costituzione di una commissione speciale sulla sanità e sulle sorti dell'ospedale appunto cittadino mentre da Urbino e credo che qui siamo arrivati già in fondo alla nostra rassegna stampa da Urbino sì alla palestra ma non al posto campetti sportivi i cittadini del quartiere piantata di Urbino dicono no alla proposta del comune di realizzare l'area sportiva nel punto verde del Rione ma la propongono nella vicina Villa Maria sede del liceo artistico scuola del libro sotto invece sempre a proposito di questa realizzazione in quell'area ci sono problemi geologici sulla costruzione dell'edificio intervengono anche l'onde e cangini bisogna approfondire e chiudiamo qui sì chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie come sempre per la vostra cortese attenzione vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia il quale come sempre potrete collaborare dandoci una mano soprattutto adesso che qualcuno inferi bisognerà che ci diate una mano ancora di più al 338 4968 250 il nostro numero di telefono il numero di redazione sempre disponibile per accogliere i vostri sms ma soprattutto messaggi whatsapp quindi grazie per tutto quello che farete anche per la giornata di oggi buona giornata